Una poltrona per due, il film è natalizio, non lo è il clima, intorno all'acquedotto di Irpini e Sagno. Saranno l'avvocato fallimentarista Antonio Lenzi di Avellino e il commercialista e amministratore giudiziario Massimo Zeno di Portici a contendersi la poltrona di amministratore unico. Nonostante difficoltà economiche e creditori alle porte, alla vigilia dell'assemblea dei sindaci soci per la scelta del nuovo vertice, la politica si è messa in azione, arrivando tuttavia non all'unanimità ma al braccio di ferro muscolare. La scelta di un tecnico scevro da condizionamenti resta comunque una scelta politica, perché non ci sarà un concorso o un bando che premi titoli e competenze, ma indicazioni nate in qualche stanza che arriveranno ai primi cittadini chiamati alla scelta. Sul primo nome c'è una sostanziale convergenza tra i consiglieri regionali Petracca e Alaia, sul secondo è invece l'asse dei soci più forti nelle quote, Comune di Avellino e Provincia, a puntare determinante il ruolo dei beneventani, sia di quelli di fede mastelliana che in questa fase dialoga per ragioni di opportunità politiche alle europee con Alaia e Italia Viva, sia dei sindaci beneventani del variegato universo PD. È probabile che alla conta finale e all'emergere dei numeri per l'uno o per l'altro arrivi anche un'indicazione unanime per mandare un messaggio distensivo ai creditori che tra poche settimane valuteranno il piano di rientro da 140 milioni di euro di debiti. Non ci saranno sconti invece, almeno inizialmente, sulle posizioni. Lo dimostra quanto accaduto in altri enti, in particolare all'Asi di Avellino. Una direttiva regionale non meglio precisata ieri avrebbe dovuto portare alla ratifica di nuovi equilibri col taglio di poltrone dei rappresentanti di provincia e comune di Avellino. Un blitz lo ha definito il presidente della provincia Buonopane, rinviando ad approfondimenti il tema, lanciando stoccate al suo partito. I casi alto caloreato suggeriscono, come in una celebra fiction, che una poltrona è troppa e due sono poche. Anzi no, erano le parole, quelle mancate da destra e sinistra, su come si intendono gestire gli enti.